Sono nel giardino della casa studio e laboratorio di Cesare Leonardi, un luogo che oggi è l'archivio, che contiene tutti i documenti progettuali e tutto quello che ha fatto Cesare Leonardi nella sua vita. Ci troviamo al villaggio artigiano Modena Ovest, a pochi metri da Ovest Lab, dove è sede la scuola. Fare scuola è un progetto nato per trasmettere il metodo di Cesare Leonardi, rivolto a più ambiti, all'architettura, alla scultura, al design, alla fotografia, ma sempre caratterizzato da un approccio artigianale al mestiere, una pratica artigianale intesa come modo per comprendere la realtà e per trasformarla, ma anche per contribuire a uno sviluppo coerente ed etico della società e degli individui. Ci troviamo al villaggio artigiano Modena Ovest, luogo emblema dello sviluppo sociale e economico della città, ma anche emblematico di un rapporto incendibile degli abitanti tra vita e lavoro, tra impresa e senso di comunità. Ovest Lab è uno spazio gestito dalle associazioni Amigdala, archivio Cesare Leonardi, in convenzione con il Consorzio Attività Produttive della provincia di Modena. È uno spazio che ha l'obiettivo di produrre una rigenerazione partecipata di questo quartiere in un processo che abbiamo chiamato fabbrica civica. Ed è già oggi uno spazio dove convivono moltissimi ambiti disciplinari che hanno tutti quanti insieme l'obiettivo di produrre nuovi immaginari, nuove visioni partecipate con gli abitanti di questo quartiere per questo pezzo di città. L'idea è quella di formare progettisti e artigiani al di fuori delle attuali logiche di specializzazione, in grado piuttosto di governare la specificità del progetto attraverso capacità critica e lavoro di indagine. Ovest Lab è un'ex officina meccanica e qui stiamo trasformando alcuni spazi per destinarli alle attività della scuola. In particolare il luogo dove ci troviamo ospiterà le lezioni, gran parte dell'attività didattica. Alle mie spalle vedete uno scaffale in costruzione, realizzato con mobili in legno giallo della serie solidi pensati da Cesare Leonardi. Nell'altra sala, più grande, si svolgeranno attività laboratoriali, in particolare costruzioni di modelli, prototipi, lavori in falegnammeria e artigianali. Poi ci sono spazi destinati alla convivialità, alla socialità, sempre a piano terra c'è una cucina. Degli spazi invece all'aperto, due cortili, uno fronte strada e l'altro sul retro, dove sta nascendo una straordinaria vegetazione spontanea. Al piano superiore si trovano gli uffici e lì si troverà la segreteria della scuola. La scuola si inserisce in un contesto dinamico ed è per noi un tassello fondamentale, non solo per riqualificare questo luogo, ma anche come innesco di processi di trasformazione del quartiere, che è un'area molto importante della città, ma oggi quasi completamente abbandonata. Come che futuro può avere un quartiere del genere? La prima cosa è che mettiamoci gli alberi, che gli alberi crescono nella torre seria propria. La prima cosa è che 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 la